La pace, la gioia, l'amore di Cristo Gesù, in Dio Onnipotente, sia con tutti noi. Buongiorno e buon sabato a tutti. 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 Buon sabato a tutti. Buon sabato a tutti. Buongiorno e 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 buon sabato a tutti. Buon sabato a tutti. Buon sabato a tutti. Buongiorno e buon sabato a tutti. Grazie a tutti. Bene, tra parentesi adesso vi invito a pregare insieme a me che è disponibile. Se ti sentite un po' chiudere gli occhi e chinare il capo, se vi è possibile, se non vi è possibile, state come meglio vi viene. Il Signore sa ogni cosa. Alleluia. Gloria a te, Padre. Alleluia. Santo, santo sei, Signore. Ti vogliamo lodare e ringraziare, Signore. Principalmente perché, non perché abbiamo avuto qualche cosa, ma perché tu ci hai dato testimonianza, Signore. Testimonianza della tua vita in noi, attraverso il tuo figlio, lo Gesù Cristo. L'abbiamo palpato addirittura con il nostro essere. Personalmente, Signore. Dove andremo se non a te? Solo tu sei fonte di vita. Solo tu sei fonte di gioia, di amore, di felicità, di tranquillità. Da quando sono con te, Signore, mio Dio, la mia vita cambiò. In bene e in meglio. Non mi interessa in altre cose pensano di me. So solo che io vivo e vivo in te. E questa gioia, quest'amore, questa potenza che tu mi hai donato, io ti lodo, ti ringrazio. Nel nome del tuo figliolo. Sii padre. E stamattina, Signore, vogliamo venire a te attraverso il tuo figliolo, Gesù Cristo, lì, davanti alla tua presenza, Signore. E accettaci così come siamo. Alleluia. Alleluia. Ti voglio chiedere benedizione per i miei cari fratelli, sorelle, amici, e anche i nemici se ne abbia qualcuno o qualcuno che mi vede con un occhio diverso. Ti prego di benedire principalmente loro che in questo momento possono aprire il loro cuore, la loro mente, i loro sguardi e cambiano. atteggiamento perché vedono te, non me. Grazie padre. Alleluia. Padre, ti chiedo benedizione per la mia famiglia e per tutte le famiglie del mondo. Benedici mia moglie, i miei figli. Benedici ancora mia nuora, mio genero, i miei nipoti. Ancora i miei consuoceri, sia quelli che sono qui in Germania che quelli che sono in Italia. Oh, buon padre celeste, ancora ti chiedo benedizione per le vedove. Per i divorziati, per gli handicappati, per gli orfani, per i senza tetto, per i drogati, per tutti quelli disabili, signore, che non hanno nessuno che li accutisci. Stendi la tua mano su ognuno. Padre, stendi la tua mano su ognuno. E risano, aiuto, sostiene, dagli gioia, dagli amore, dagli potenza, che possano aprire il loro cuore, la loro mente, in ogni cosa. che possano fare un cambiamento totale, soprattutto indrezzare il loro sguardo al tuo figliolo Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per loro e per noi. Grazie padre, ti ringrazio e ti lodo, nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo. non mi staccherei mai, ti guida la tua presenza, signore, ma devo andare a lavorare. ti ringrazio, padre. Fai che oggi sia un giorno felice per me, un giorno bellissimo per me. nonostante la temperatura, qualsiasi cosa che ci sia, qualsiasi intemperia, io sono nella felicità. Grazie padre, che tu mi dai questa costanza, questa gioia, questa felicità, questa immensa gloria in te e in Cristo Gesù. solo tu puoi ogni cosa, signore, e io mi affido a te, attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo. Grazie padre, ti ringrazio e ti lodo, e ti benedico, nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Gloria a te, signore. Grazie padre. Amen. Gloria a te, signore. Miai cari, nella grazia, vi saluto nella pace del Signore. Chi desidera contrattarmi, c'è il numero di telefono nella foto del profilo, e può contrattarmi. c'è anche il mio sito, nella foto, lo ripeto qui, www.gesulaluccedelmondo.it ripeto, www.gesulaluccedelmondo.it www.gesulaluccedelmondo.it ve lo mostro in online, qui. www.gesulaluccedelmondo.it ecco, questo è il sito. www.gesulaluccedelmondo.it invito a guardarlo ci sono molte cose che possono interessarvi per la gloria del Signore e per voi. www.gesulaluccedelmondo.it 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 quando i bambini lochano e un Gaudium, come si è oggi, quindi non lo so. Bene, miei cari, vi saluto nella pace del Signore Vi abbraccio come faccio sempre E come volendo il bacio Dopo Addio volendo, a più tardi Oggi faccio mezza giornata Perciò saremo più vicini Sia con la scrittura che con la presenza Addio volendo, a più tardi Pace